Per il 24esimo anno consecutivo, anche dopo il termine del 2022, la Fondazione Filippo Fattori conferirà premi e riconoscimenti a 55 studenti delle scuole medie inferiori e superiori della nostra provincia che, pur portatori di affezioni neurologiche o di altro rilievo, hanno frequentato con profitto le varie scuole nell'anno didattico 2021-2022. Sale così a 817 il numero degli alunni che in queste 24 edizioni sono state premiate dal riconoscimento. Considerata la persistenza della possibilità di contagi sia influenzali sia pandemici, è stato scelto di non organizzare la cerimonia per la consegna dei premi con la presenza fisica degli alunni e dei familiari che impegnava la presenza di oltre 100 persone e, pertanto, la consegna verrà fatta dalle varie scuole ai rispettivi alunni, come già avvenuto nei due anni precedenti.